ben ritrovati ben ritrovati a tutti oggi 5 gennaio domani è l'epifania tutte le feste le porta via ma l'unica cosa che non porterà mai via l'epifania sono le vostre iscrizioni al canale stefano bernardi meteo allora se non l'avete fatto iscrivetevi iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche e poi lasciate un like o un commento al video allora di cosa vi voglio parlare in questo contenuto vi voglio parlare della bellezza del fascino della particolarità del nuovo setting troppo sferico al quale andiamo incontro inizierà proprio da domani proprio dalla befana quindi un setting troppo sferico una circolazione a macroscala e invernale e invernale vuol dire tante cose vuol dire moti e retrogadi quindi anti zonali da est ovest meridianizzazione del getto dei getti da nord verso sud blocchi delle correnti atlantiche formazioni di di anticicloni sul nord europa e addirittura fin sul circolo polaro artico insomma un quadro barico circolatorio veramente tra i più belli e più particolari e soprattutto tra più difficoltosi poi da andare ad analizzare per cercare di individuare ovviamente il lungo termine e siccome come vi ho detto nell'ultimo contenuto si va un po contro quelle che sono le classiche leggi della fisica di circolazione per il nostro per la nostra roba e per il nostro comparto italico ovvero la circolazione classica ovest est ovviamente c'è veramente molta difficoltà nei modelli fisico matematici nell'individuare poi i movimenti e quindi il consiglio che vi do adesso ma veramente ve lo in maniera spassionata se si vuole cercare di capire una tendenza sull'italia come potrebbe evolvere eventualmente un'azione sull'italia vuoi anticiclonica ma poi soprattutto quello che interessa maggiormente perturbante dal carattere più o meno freddo non bisogna andare nel determinismo quindi con i modelli quelli a 500 hpa che tutti conosciamo oltre le 120 ore perché veramente sarebbe diciamo un gioco che non porta a nulla andare a guardare oltre le 120 ore per cercare di capire il tempo sull'italia o su una determinata zona d'italia oltre le 120 ore proprio perché perché in un contesto di setting barico circolatorio come quello che sta per iniziare è veramente difficoltoso è difficile gli stessi modelli anche più prestigiosi anche cmvf che sapete io amo particolar modo in particolar modo ha delle difficoltà poi di individuare il tipo di azione che poi sarà evoluzione finale per il mediterraneo e per l'italia proprio perché sono moti che vanno contro le classiche leggi della fisica della grande circolazione europea e mediterranea ovest est ma ovviamente per chi come me ama questa passione per chi come me la studia ci lavora insomma delle collaborazioni importanti per con i media anche a livello nazionale per me è uno spasso è veramente bello addentrarmi in queste dinamiche cercare di capire quello che può accadere già entro le 120 ore figuriamoci dopo innanzitutto il primo step previsionale è ormai un dato di fatto ci sarà si sta formando la bassa pressione questa bassa pressione inizialmente sarà più mitigata ma poi vedete domenica sarà in forte azione questo centro di bassa pressione sull'italia e inizierà anche a richiamare delle correnti via via più fredde arriverà sta tornando ma arriverà molta neve sulle alpi ma anche sull'appennino l'appennino centrale tra sabato e domenica e occhio per quanto riguarda ad esempio l'appennino abruzzese dove come altre regioni c'è estremamente bisogno ecco di neve a quote impianti per capirci occhio a domenica perché domenica potrebbe essere una giornata importante per riportare delle nevicate copiose proprio sull'appennino centrale ma direi tra sabato e domenica anche l'appennino centrale vedrà tornare la neve a quote anche interessanti soprattutto nella giornata di di domenica poi questa bassa pressione nel suo lento colmamento però rimarrà comunque centrata anche ad inizio settimana questa bassa pressione seppur sul sud italia però posizionandosi al sud italia nella sua fase di colmamento riuscirà a richiamare correnti più fredde anche artiche verso l'italia quindi soprattutto il centro nord soprattutto il centro nord poi il versante adriatico e poi tutto il nord in generale nella giornata di lunedì queste zone le regioni di queste zone saranno investite da correnti particolarmente fredde e quindi ecco che eventualmente l'instabilità che si potrà creare nella giornata di lunedì parliamo di stabilità ripeto sulle regioni centro settentrionali e soprattutto quelle del versante adriatico e poi ovviamente anche sull'estremo nord ovest proprio per impatto della circolazione si potrebbe avere qualche nevicata fino a quota fino a quote molto basse ecco lo vedete insomma il freddo che entrerà nella giornata di lunedì tornando invece proprio al discorso di questa particolarità dei del setting circolatorio tipicamente invernale perché vi ho detto che è veramente un gioco che non va fatto quello andare a cercare di capire il tempo solitare oltre 120 ore perché perché con i moti retrogradi con l'antizonalità con i moti diciamo meridiani nord sud è veramente difficoltoso andare a leggere perché è un po sono un po moti azioni le possiamo definire li possiamo definire un po schegge impazzite quindi ecco perché i modelli hanno molta difficoltà nell'individuare poi il tipo di tempo in in quel proprio comparto europeo in questo caso potrebbe essere quello italico che ci interessa vi faccio un esempio su tutti attorno a metà settimana si sgangerà un nucleo retrogrado freddo che dall'italia proprio dall'italia si formerà sull'italia e se ne andrà verso l'europa occidentale vedete se ne andrà proprio verso l'europa occidentale poi questa scheggia impazzita di questo nucleo retrogrado già a 24 ore dopo con molta probabilità sarà visto fare cioè farà praticamente una una retromarcia girerà su se stesso come in una rotonda e riprenderà l'uscita verso l'italia eccola qui vedete proprio prima 24 ore prima va sparato verso ovest 24 ore dopo si gira e va sparato verso est ecco questo nucleo che con molta probabilità farà questo gioco retrogrado prima verso ovest e poi verso est oggi non sappiamo dove potrebbe andare eventualmente a colpire l'italia se la colpirà se non la colpirà per niente oppure se potrebbe andare a condizionare poi il tempo nella seconda parte diciamo della settimana sull'italia perché se questo nucleo faccio un esempio andasse ad impattare sull'italia centrale ecco che qui potremmo avere una situazione di stabilità di tempo perturbato e con ovviamente visto le temperature anche la neve a quote sia montane ma anche a quote eventualmente relativamente basse e così se andasse poi ad impattare al sud italia o al nord italia in questo momento non sappiamo dove andrà ad impattare dopo questa manovra a ritornare indietro verso l'italia ed ecco perché non possiamo sapere il tipo di tempo oggi post diciamo 10 gennaio sull'italia perché questo nucleo potrebbe far variare completamente le carte in tavola proprio sul tipo di dinamica italica ma siamo con questo ta e con questo step con questo nuovo setting scusate questo nuovo setting troposferico invernale siamo di fronte anche a meridianizzazione del del getto e lo sappiamo ecco un'altra carta il famoso step di metà mese probabilmente si andrà incontro anche ad una meridianizzazione del getto quindi ad un'azione artica nord sud e attorno a metà mese giorno più giorno meno che sia il 14 che sia il 16 il 17 non lo sappiamo ma se ci sarà un'azione meridiana come ci fa vedere sia il ranno ufficiale di hmwf ma se guardiamo anche ad esempio la media di tutti i suoi clusters ci dice che ci potrebbe essere un'azione meridiana verso metà mese verso le medio basse latino europee dove colpirà è difficile dirlo perché dipenderà molto dalla radice dell'alta pressione dalla rotazione dell'alta pressione proprio perché sono azioni molto particolari il peso del freddo che comunque condiziona sempre molto l'avanzata delle correnti atlantiche ma viene letto dai modelli il freddo viene letto soprattutto nel medio breve termine quindi è un'azione è un nuovo setting che per quanto riguarda gli addetti ai lavori è un qualcosa di meraviglioso di strepitoso perché crea passione crea studio e quindi per me è particolarmente intrigante la cosa proprio nel nello studiare queste nuove dinamiche lo so per chi sta aspettando freddo e la neve sull'uscio di casa sua è lì che oggi c'è la possibile neve poi vado a vedere una nuova emissione modellistica a lungo termine e non c'è più e poi e poi torna e poi non c'è e poi l'ultimo run di gfs tornando a fare gfs a mette la colata artica sull'italia poi quello dopo no ecco ma in questo caso non do la colpa gfs a prescindere dal target troppo troppo lungo ci mancherebbe ma perché il proprio tipo di dinamica che mette in difficoltà i modelli nell'individuare poi un'evoluzione finale di un target su un comparto preciso europeo in questo caso noi parliamo ovviamente dell'italia e allora non si può andare veramente oltre le 120 ore per capire questa cosa dell'evoluzione di uno step quindi mi fermerei e dobbiamo fermarci assolutamente nel range delle 120 ore per capire il tipo di evoluzione che si avrà sull'italia da lì a quattro massimo cinque giorni e poi ovviamente cogliere sempre qualche segnale più a lungo i segnali ci dicono che l'europa e anche il mediterraneo avranno tanti step nei quali si potranno avere delle azioni fredde ed anche stabile e perturbate ma dove colpiranno l'italia è in gioco per queste azioni sì perché già è in gioco ad esempio per dopo metà se dopo questa fase che stiamo vivendo per dopo metà settimana per quella palletta impazzita di quel nucleo che andrà prima ovest e poi tornerà est non sappiamo dove potrebbe colpire poi c'è lo step di metà mese probabilmente si andrà incontro a quest'azione meridiana ma ad oggi non sappiamo precisamente come potrebbe colpire l'italia e in che modo quindi per quanto riguarda ripeto lo studio della materia in questione è una cosa affascinante bellissima e ci perderò notti insonne per per studiare queste dinamiche e ovviamente lo so per voi insomma che aspettate freddo e neve c'è la classica emotività e della quale abbiamo parlato proprio nell'ultimo contenuto bene mi fermo qui spero di essere stato chiaro ed esaustivo e innanzitutto viviamoci questo primo step che è molto importante ripeto soprattutto per il ritorno della neve su alpi ma le alpi su molte zone insomma non c'era mancanza anche se in alcune sì e ma soprattutto sull'appennino e questo è uno step molto importante bene mi fermo qui e vi auguro un una buonissima festa dell'epifania e noi ci aggiorniamo al prossimo contenuto e l'epifania tutte le feste le porta via tranne gli iscritti a stefano bernardi meteo iscrivetevi attivate la campanella delle notifiche e lasciate un like o un commento al video e e e e e e e